Ben ritrovati dalla redazione di Forens Multimedia in studio Cesare Martignan. Partiamo dalla FIPILI dove si registra traffico bloccato per incidenti in entrambe le direzioni tra Ponte della Est e Ponte della Ovest. L'uscita a Ginestra provenendo da Firenze presenta auto incolonnate per viabilità esterna che non riceve. Tra Ginestra e Montelupo code in entrambe le direzioni per lavori. Ci spostiamo sulla A1 dove le code sono presenti tra Aglio e Calenzano e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Coda per lavori nella dirammazione Luca-Viareggio in direzione Viareggio. Ricordiamo che l'uscita a Firenze Sud provenendo da Roma è chiusa per lavori con riapertura prevista per il 27 luglio. Per il meteo rischio temporali forti per oggi con l'allerta gialla che si concluderà alle 20. Saranno interessati corsi d'acqua secondari per pericolo idrogeologico. Muoversi in Toscana un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altri informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie! 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 Grazie!